Lo shuffle è un esercizio nel quale ci alleniamo a rilasciare i bicchieri. Mettiamo bene le dita per sentirli e partendo dalla mano destra rilasciamo il primo bicchiere, uno con la sinistra, uno con la destra, uno con la sinistra, fino al completamento. Ne riprendiamo quattro con la mano destra, togliamo il quattro con la sinistra e ripartiamo con la mano destra. Per una terza volta e ultima, destra, sinistra e riparto con la destra. In questa maniera riusciamo a aumentare la nostra abilità e gestire il rilascio dei quattro bicchiere.